La Casa Bianca prova a smorzare le accuse di Donald Trump ad Obama di averlo fatto intercettare durante la campagna elettorale. Accuse che avevano provocato una levata di scudi e molti inviti a mostrare le prove. Al portavoce della Casa Bianca il compito di gettare acqua sul fuoco. Il Presidente è stato molto chiaro su cosa intendesse per intercettazione. Un concetto che spazia su diverse opzioni di sorveglianza. Credo ci siano stati tanti rapporti pubblicati di recente che indichino come ci siano state diverse modalità di sorveglianza messe in pratica durante le elezioni del 2016. Le uscite di Donald Trump sui social network hanno sollevato le critiche all'interno dello stesso partito repubblicano. Il Presidente ha due scelte, dare le informazioni che il popolo statunitense merita o ritrattare, ha ammonito il senatore John McCain. E' opinione diffusa tra i commentatori che se la Casa Bianca non smentirà le accuse, tutto ciò potrebbe trasformarsi in un boomerang.